Pesante sconfitta per il Movimento 5 Stelle con poco più del 19% dei voti. Un calo dei consensi, soprattutto se si guarda, il 39,8% ottenuto alle politiche del 4 marzo. Anche se tradizionalmente il Movimento 5 Stelle ottiene risultati migliori alle politiche che alle amministrative, nessuno si aspettava una debacle di questa portata. Noi confermiamo il risultato del 2014, si consola così Sara Marcozzi che preferisce guardare agli avversari. E' evidente che c'è stata una debacle del Partito Democratico che passa dal 25% del 2014 al 9-10% di quest'anno. Stessa cosa per Forza Italia dal 16% al 10% e quello è successo quello che diciamo da anni. E cioè queste grandi coalizioni formate solo ed esclusivamente da liste civetta e non civiche per rastrellare i voti dei cittadini abruzzesi come è avvenuto anche in altre regioni, insomma hanno fatto questo risultato. Si rimprovera qualche errore in campagna elettorale? Avete però dimezzato i voti. Che cosa avete sbagliato? Beh non si può paragonare un'elezione politica con un'elezione regionale per le dinamiche che dicevo prima. Cioè otto liste da un lato, cinque liste dall'altro, un'unica lista del Movimento 5 Stelle, grandi pacchetti di voti e portatori sani di voti che si spostano da una lista all'altra, che passano dal centro-destra al centro-sinistra alla Lega con una disinvoltura straordinaria, è evidente che non possono essere paragonati. Il Movimento 5 Stelle che come al solito corre con un'unica lista ha pagato anche questa scelta, come spiega il senatore Primo Di Nicola.